Ciao bambini, oggi parleremo delle vie di comunicazione. Le vie di comunicazione sono necessarie per mettere in relazione le persone e trasportare le merci. Esse sono stradali su strade e autostrade percorse da auto e camion, ferroviarie con treni su rotaie a basso impatto ambientale, cioè inquinano poco. Fluviali, cioè sul fiume, una delle più antiche vie di comunicazione, utilizzando varie imbarcazioni. Marittime, anche il mare è stato utilizzato sin dall'antichità per lo scambio delle merci. Ed infine, aeree, cioè con aerei, è il mezzo di trasporto più veloce ma meno ecologico, infatti inquinano tantissimo. Ciao bambini, alla prossima lezione. Bacio, la maestra Marianna.